Amici di MarchiGames, bentornati su GhostGhostDuck! Nuova mappa e nuovo ruolo. Oggi ci sarà, oltre all'oca normale, il vigilante, ragazzi. Bello, bello, bello. Il vigilante, ragazzi, avrà la possibilità di uccidere una persona che pensa che sia il nostro caro impostore e via. E avremo anche l'invisibilità. Come funziona l'invisibilità? Non ne ho la minima idea. Che cosa sto facendo? Aiuto. Ma che cavolo ho appena fatto? Aspetta un attimo. Ma cosa devo fare? Ah, così, ho capito. Tre colpi. Oh, fatto. Bellissimo, raga. Interesante, interessante. Devo un attimo capire bene la mappa. Ora siamo in infermeria e ho una missione qua sopra. Ok, penso di dover firmare in qualche modo. Carcassa avviaria trovata, bene. Salve. Ho trovato una signorina morta. Dove? Stavo facendo i pianeti del sistema attivare. Alla sinistra, credo, abbastanza in alto. Io e Nico eravamo in basso a destra. Bella quella descrizione. E stavamo facendo una missione dove dovevi sparare. Io non ho mai visto Kendall da quando è iniziata la partita. Io sono il reattore. Quindi votiamo Kendall. Ho fatto la missione dei codici. No, no, non iniziamo. Ho visto, io però vi posso dire che ho visto Oka Loka e Nico Point. Ragazzi, scusate, ho votato una persona. Non volevo. Ho votato me? Sì, scusate. Cerchiamo di non esagerare. Io salto il voto. Mi è saltato, ho sbagliato io. No, Marci, io so che non hai saltato. No, no, ho votato Loco per sbaglio. Sì, che hai un riquadro molto carino, Marci. Grazie, molto gentile. Sembra proprio quello dell'impostore. Eh, ci sta effettivamente. No, lui è bravo, è bravo. È bravo, sicuro? No, no. Ti scusate. Uno di quelli sono io, scusami, scusami. E l'altro? E l'altro non lo so. Sono tutti al sicuro. Ma ci sentiamo in game, perché io sentivo Marci. Davvero? Come si fa? Ah, con l'app tipo. Ah, ecco, ok. Io dovrei aver mutato tutti. Fatto, fatto. Ok, 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 ok. I quartieri dell'equipaggio. Due missioni in alto abbiamo da fare. Andiamo a farle immediata subito. Che dobbiamo fare qua? Ma che dobbiamo fare qua? Ah, dobbiamo spurgare. Cosa dobbiamo fare? Ah, dobbiamo semplicemente togliere da qua dentro, dato che era tutto sporco. E invece qui penso che dobbiamo aprire l'acqua. No, vabbè, ragazzi, pazzesco. Pazzesco. Bellissimo. Ah, no, ne ho un'altra da fare qua. Aspetta, cosa devo fare altro? Non sto capendo cosa devo fare, raga. Ho aperto l'acqua, eh? Che devo fare? Devo aspettare che si riempia. Ah, ok. Ma sono tipo... Buonasera. Scusate, in realtà non volevo premerlo. Pensavo fosse una missione. È successo anche a me, sì. Ok. Però abbiamo scoperto che loco è morto. Io non stavo capendo la roba di dirgli aprire il rubinetto. Io stavo cercando la roba delle luci e non si riesce a capire dove stanno le strade rispetto alla mappa. Eh, anch'io stavo cercando le luci. È uno tra Steph e Kendall, chi votiamo? No, 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 no. Eh, non lo so, mi sembra più Steph che Kendall, però non fiuto. Allora, io ti posso dire, ho pulito i piatti, ho fatto la roba del reattore e poi stavo cercando le luci, ho trovato un pulsante luminoso e ho detto, ah, forse è questo. E invece era questa roba qua. È un po' metà gaming, però mi ho convinto. Steph non ha neanche ribattuto. Aia. Cioè, Steph, una volta che è l'impostore, cioè... Magari non è lui. È stato outplayato, mi sa se... Non tornerà. Non mi hanno saluto. Saluto. Salve. Ciao a tutti. Ciao. Io l'avevo detto che ero il vigilante, ho fatto tutto io. La kill l'ha fatta Kendall. L'ha fatta Kendall, ragazzi. Non è vero, dai, non è vero. È un grande loco. No, no, io ci sono vero. A me ha ucciso, ha ucciso Kendall, quindi... Vai, dite ancora che sono scarso a sti giochi, dai. Ma che cosa ho fatto di positivo? Stavi perdendo. Siamo di nuovo! Delle oche, delle oche, siamo delle oche. Oddio, aspetta, dove sto io? Ok, sono qua, devo andare dentro la... Bella la scuola, raga! Che devo fare qua? 9 più 1, 10, giusto? 2 più 0... No, è falso. Ok. Basta, abbiamo corretto i compiti delle vacanze, raga. Ma che cavolo? No, aspetta, ce n'è un'altra da fare qua. Che devo fare qua? Ah, qua, la macchietta del caffè. Quindi qua devo versare. Oh, bel caffè adesso, raga, quanto me lo berrei! Vi piace il caffè? Fatemelo sempre sotto nei commenti, perché io sono un amante del caffè. Proprio un tot. Ok, vado a fare anche quella sotto qua. Che devo fare qua? Devo andare giù di là. Qua, 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 qua. Ok. Come vado di lì? Non ci sto capendo nulla! Ok, di qua. Bene. Ah, devo semplicemente toglierle. Ho capito. Ho capito. Io e Nico, niente, facciamo le stesse missioni, raga, praticamente. Vai, pulisci tutto! E andiamo. Adesso le missioni ce le abbiamo in stazione radio. Quindi qui sotto. E... Oh, ne ho alcuna anche qua. Ma che devo fare, raga? Come torno su? Ma dove so? Ma dove ca... Che confusione uscire da quella cavolo di... Allora, esatto. Ma raga, ma qualcuno è entrato per caso dentro le fogne? Io c'erano io e Kendall che non capivo più niente lì dentro. Un quarto d'ora per uscire dalle fogne. Io pensavo fosse una missione, ho cliccato. Anch'io! E se io salì dentro non riuscivo più a uscire. C'era Kendall con me, quindi lui è safe. Non è detto... Addio Ocaloca. Perché Ocaloca è morto, abbastanza vicino a Fere. Ok, cosa lo sta insinuando? Che voi siete usciti da quelle fogne. Ma ci siamo stati tipo 10 minuti. Ma hai fatto! Io... E l'impostore potrebbe aver detto, cavolo, ho perso sacco di tempo nelle fogne. Stefano, Stefano, una brutta notizia. Dimmi. Ho fatto tutte le missioni con Nico. Perché stavi incolpando me? No, no. Dico che manca solo lui. È l'unico che non ha un alibi. Eh sì, ragazzi, io stavo scavando una montagna. Perché non ha l'alibi? Tu. Io. Io ho visto Nico. Questi plot twist. No, però è vero, Stef stava guardando una ruota che gira. E a meno che non è strano, era una missione. Mi è piaciuta questa. Eh, non so. Di solito non guardo ruote. Vabbè. Lo scopriamo nel prossimo round. Sì. Va bene, va bene. Ok. Dei nuggets. Sono tutti al sicuro, però là. Mi piace, raga, sta situazione. Però ci sono delle missioni che... Devo capire dove fa... Ok, qua c'è una missione. Posso cliccare? Ho questo. Questo, questo di nuovo, questo qui e l'esagono. Mamma mia, raga. Missione clamorosa da parte di Marcia. Ok, qua si può aprire. Ah, si apre quando si chiude. No, hai capito che spettacolo. Ah, qua devo pulire. No, ma raga, raga, sto gioco comunque è incredibile. Sto gioco è veramente... È incredibile. Mi piace un botto, mi piace. Ok, sto giocando molto con la mappa aperta. Mi ne rendo conto. Però c'è alla fine... Ok, cosa devo fare? Sì? Che devo fare? Pronto? Pronto! Ma che è? Ma cosa devo fare, raga? Chi mi sente, scusatemi. Posso dire? No! Un po' godo. Un po' godo. Ma qualcuno per caso ha fatto la missione del telefono, che non ho capito come si fa. Ma non è una missione, credo si dipende la chat. Ah, io stavo parlando. Anch'io stavo parlando, ma quella con... E quella la può fare solo l'impostore, eh? Ma non è vero. No, non è vero. Anch'io la potevo fare. Anch'io l'ho fatta. Cioè, l'ho fatta o l'ho fatta? E quindi chi si vuole? Da Kendall o Fera? E poi tu non puoi parlare, stai zitto, sei morto. No, no, ero l'unico senza l'alibi. Allora, io posso dire, ho fatto la missione del... Dei colori. Non so se... Allora, io ho fatto una missione a fianco a Nico, è l'unico che ho visto. Perché dove sono andata a fare la missione ed è quella missione della paperella che deve saltare le palline. Quella che ha detto Kendall è la missione dell'impostore, ragazzi. Ah sì? Perché sai dire? Sì? È esposato da solo. Sério? Non è vero. Sì, è come le altre mappe, è quella dell'impostore. Ma non è vero. Oh, un nugget. Dai, ma io che cavolo ne so? Ma io... Ma io... Ma io... Ma io... Ma io... Oh, non avrei sopportato di te. Pesante. Ma come fate a sapere queste cose? Ma se lo dico. Come fai? Tu non sapete? Se mi ha giocato un'altra volta. Ma ci ho giocato una volta a sto gioco, ma che volete da me? Comunque era la partita perfetta, rovinata da un cavolo di qua, qua, qua. Io metto loco adesso. Eh, certo. Infatti io non so spettavo di te. È che poi è andata a rinzio. Eh, maledizione. Chiunque sia non uccidete Ocaloca, vi prego. Ok, ciao. Poverino. No, Steph, dovevo entrare io. Uffa. Muffa, muffa, muffa. Eccoci qua, raga. Si vola. Si opera. Ok, qua. Oh, santo. Cosa devo fare? Ma che devo fare? Ma raga, devo... Devo mangiarli? Ma che cosa devo fare? Ma che è? Ma io dove sono? Ho vinto! Ho vinto! No, un altro. Ma che devo fare, raga? Ah, ho pensato di aver vinto. Raga, è bellissimo! È bellissimo! Eh, oh mio Dio. Come si fa qua? Ok. No. No, no, no. Toglio, toglio. Allora, devo mettere un uovo. Un altro uovo e questo. A posto. Si vola. Ok, devo andare dall'altra parte adesso. Che è esattamente in scuola. Ok. Devo andare a scuola? Sì, di qua si entra. Penso di aver fatto tutte le missioni, raga. K più M. Sto male. No, non è vero. Me ne mancano un sacco di missioni ancora. Ultime missioni in sala. Giochi. Buonasera. Non mi stai seguendo. Pen è morto. E almeno che lo che è vivo. Sono vivo, però Kendal mi stai seguendo. Non dire bui, abbiamo fatto... No, loco. Non sapevo dove era l'emergenza, quindi non potevo chiamarla. Loco, allora, loco, io posso dire che è safe perché stava facendo la stessa missione che ho fatto io. Che di nuovo Kendal, ragazzi. Gli impostori, lo spiego perché Kendal non ce l'ha ancora chiaro, possono anche fare le tasche finte. Sì, sì, sì. Ok, ma lui non stava facendo le tasche finte, ha fatto la stessa tasche che ho fatto io, che non sono un impostore. Le tasche da poter fare. Ok, però non mi ha ucciso. Ero lì cinque minuti davanti a lui, non mi ha ucciso. Vabbè, ma stiamo toccando da dieci minuti e è morta una persona. I don't know, I don't know. Ed era anche l'unica persona a volte. Io ho visto più volte Kendal e Fere. Nico una sola volta, Marci io non l'ho mai visto. Io ero visto spesso, Marci. Io ero visto spesso. Ma facevo le missioni con Nico. E viveva nelle fogne, Marci. Dai Fere, parla. No, è saposato. Niente nuggets. E niente. Arriviamo al nugget. Missions, ragazzi, bisogna andare in fondo in sala giochi. Bisogna fare le ultime missioni in sala giochi, ragazzi. Per forza. Quindi abbiamo quelli in basso a... Eh sì, ragazzi, ce ne abbiamo ancora un botto da fare. Porca paletta. No, ragazzi, ma è tipo trafficoso. Ma cosa devo fare, ragazzi? Non sento, non ho capito. Natti, non ho capito. Buonasera. Non ho capito, l'ho lasciata lì per ora. È Kendal. Se non scoppi, dì no. No, Marci. No, scherzo, scherzo. Così, a caso è lui. Ma sono sempre stato con Nico e non posso essere io. Eh, è raffianco a me. Secondo me, infatti, non è morto nessuno, come vedete. Anche questo è vero. La forza, Nico. Eh, ma prima è morto qualcuno. Quando Marci fa questo contagio. No, 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 no. No, non viene ucciso. No, non è maggioranza. Non è maggioranza. No, non è maggioranza. No, povero, cagli. Sono tutti al sicuro. Contagio. Contagio. Capito cos'è? Elimina il contagio. Ma che è? Aspetta qua. Ma che devo fare? Chi era? Vinto. Era Steph. Ma scusate il contagio. Cos'è una cosa nelle fogne verde che ho rotto, tipo? No, ma ce ne erano tanti. Però le cose, le emergenze di sto gioco sono incomprensibili. Avete vinto perché avete finito le tasche. Ma io non ho finito. Io non ho finito. Da me mancavano ancora tre. Ma perché questo gioco non ti dà di finirle? Ne devi fare un tot. Sì. Eh, perché io infatti ne avevo un botto e poi mi continuavano a riapparire. Io non vedo nessuno vicino a me. Oh, c'è Nico. Ciao Nico. Sto facendo il caffè di nuovo. Che buono, voglio il caffè, raga. Allora, io ho visto il momento in cui Kendall si avvicina al cadavere di Steph e lo reporta. Perché sono entrata nella sala giochi in quel momento. Siamo entrati nello stesso esatto momento. Ma tu eri già dentro però. Nico era in alto a destra e Loco era in basso a destra. Come va a saperlo? Perché ti sono passato di fiancari tipo in un angolino del parco. Stavo facendo la cosa che gira. Quindi di nuovo Kendall o Fede. Sì, dai, vabbè. Può essere stato chiunque. Eh, insomma. Ma io sono entrata, ti ho trovato lì davanti. Cioè, allora, Nico l'ha lasciato gli ultimi 15 secondi. Non so se è riuscito a fare tutto il tracciato. No, ma che sono vero. Fede, io ti ho visto entrare nello stesso identico momento mio. Io ti ho visto già dentro quando sono entrata. Sono entrato da destra. Fate le vostre valutazioni. No, io per ora salto. È morto. Qualcuno ha fatto BB-Bop? Cos'è BB-Bop? Ho detto solo quello che ho visto. Io non ti ho votato però, eh. Ho saltato. No, anch'io. Ragazzi, a quanto è guardato che è Kendall? Sono in sala giochi. Ho una missione qua? No, che sbatto. Non ho le missioni in sala giochi. Io voglio fare le missioni in sala giochi. Ok. Io devo fare questa qua in alto. Mi ammazza Kendall adesso. Cioè, se è furbo non mi ammazza, raga. Perché io l'ho... Ho detto che era lui. Quindi, in teoria... Che devo fare qua? Devo salvarlo? Devo pulire il vetro? Ma che c... Comunque c'è un certo emissione, raga, che sono veramente incredibile. Cioè, sono veramente incredibili certe missioni. Che devo fare qua? Oh, devo giocare. Ma bisogna prendere la pugnale. Ma che c... C'è un certo emissione, raga, che sono incomprensibili, veramente. Stranamente ho trovato la carcassa del mio amico che avevo detto che non era lui. Posso parlare? Tranamente l'hai ucciso tu. No, non posso parlare, sei morto. Posso parlare? Dove era? Era in alto a sinistra. Devo dire una cosa importante. La task è quella dell'arcade game, dove c'è il clown col palloncino che scende. Ok. Ok. Dovete cliccare i tastini del veicolo e mettere il numero dei colori dei palloncini. Tipo, se ce ne sono due verdi e uno viola, dovete cliccare le due volte verde e uno viola e poi premere l'ok per sparare. Ma non è importante, ma possiamo parlare. Ma è importante, non riuscivamo a farla quella missione. Dove era morto? Che stava facendo delle tasse vicino a me. In alto a sinistra. Comunque Fede, in basso, a destra e Kendall era in alto a destra. A destra, eravamo in basso a destra, io e loco. Quindi in alto a destra vuol dire che Kendall arrivava da in alto a sinistra. Arrivavi da in alto a sinistrale. No, io ero a destra, tutto in basso a destra, con loco, nella stessa stanza. In basso a destra e in alto a destra di te. Vabbè, ma che ne so, ma non conosco la mappa, eravamo a destra. Dai, ragazzi, non sono mai l'impostore. Se muoio per primo... Avete perso. Se muoio per primo... Non sono mai l'impostore. Sì, ma sai perché? Eh beh, ero io con loco, non c'eri. Non perché mi avete sgamato? Eravamo solo noi due, quindi non c'eri. Ma loco, loco sei un bugiardo, mi hai visto. Mi sono passato davanti. In alto, in alto eri, non in basso. Ma è che macchina è su, ma era a destra. Comunque, mi avete sgamato soltanto perché sono stato tipo 10 secondi sul cadavere di Steph di proposito. Eh sì, eri su, sì, io sono entrata lì e tu c'eri tu fermo che l'hai reportato quando mi hai visto entrare, capito? Ci vediamo in un prossimo video di GusGusDuck da Marce e Tutto. Ciao.